mi scusi una gelateria qua vicino grazie grazie io ti propongo finiamo di mangiare siamo barzotti ragazzi e dormiamo morti questa mania di andare in tv voglio farti notare colpacci da crossfit guarda è l'unica cosa che non si nota comunque sto arrapatissimo in questo periodo una cosa enorme la settimana scorsa topino ha fatto una scommessa noi stiamo cercando in qualche modo di andare allo stadio però sfortunatamente loro non ci sono riusciti ad entrare e invece io si è dolcissima questa ragazza amore si rettifico amici di pillole di weekend ciao ragazzi di pillole siamo in Umbria e siamo qui in condizioni pessime alla saga dei piccioni in carrozzo porta la braccia accesa che cazzo ordini dimmi che non cambia cazzo sa di tappo no fa cagare il budget è basso stasera 146 euro di conto è un problema di account non è un problema di account ma ci hanno dato il pietra ma mettitelo nel furo e apri sto cazzo di veicolo non posso stare per rivendicare teppo ma tu come ti senti che ti sposi sabato? this is the end grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti